Una delle ultime proposte di deliberazione della Giunta Comunale di Agropoli ha per oggetto la manifestazione di interesse per l'acquisizione al patrimonio indisponibile di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha informato il Comune di Agropoli della possibilità di presentare una manifestazione di interesse per l'acquisizione al patrimonio indisponibile dei cespiti confiscati. Tale agenzia ha dichiarato che la manifestazione di interesse da presentare entro 60 giorni deve mostrare le finalità per cui si intende destinare i beni in argomento, la tipologia di gestione, diretta o indiretta, le fonti finanziarie necessarie a garantire la sostenibilità nel tempo della progettualità individuata, nonché l'utilizzo degli immobili entro un anno dalla sua consegna, in ragione dell'attuale stato di manutenzione. I sopralluoghi sono già stati effettuati dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale di Competenza e lo stesso Comune di Agropoli ha interesse all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei suddetti cespiti, siti nel Comune. L'obiettivo è quello di allocare al suo interno compatibilmente con le destinazioni catastali i servizi di carattere sociale, casa accoglienza anziani, centro accoglienza minori a rischio, casa senza fissa dimora, sportelli ascolto, sezione osservatorio italiano, informazione, anticrimine, eccetera. I locali saranno gestiti direttamente dal Comune o con le associazioni. La finalità mira facilitare l'integrazione e migliorare le interrelazioni tra istituzioni, realizzando servizi tesi al contrasto delle situazioni a rischio di emarginazione sociale di minori e servizi di accompagnamento anche di persone senza fissa dimora.